Si è svolto a Palazzo Bonillongare a Vicenza il convegno intitolato Innovazione e Diversificazione Conviene Investire in Startup, promosso dalla Fondazione Primo Miglio 1609 che gestisce l'omonimo incubatore di startup manifatturiero di Vicenza. Con il convegno Innovazione e Diversificazione Conviene Investire in Startup si è creata l'occasione per esplorare il tema dell'investimento in startup e per rappresentare le tre imprese innovative che hanno completato il loro percorso di 12 mesi all'interno dell'incubatore e che ora con prototipi e business plan pronti si propongono al mercato delle imprese e degli investitori del territorio. Come recita il nome stesso dell'incubatore hanno percorso il loro primo miglio, ora è il momento di cominciare il secondo. Tutti i soci che hanno voluto investire nella progettualità proposta da Primo Miglio 1609 hanno voluto fare una scommessa sul futuro mettendoci passione e impegno, anche perché qui a Vicenza tutti gli attori economici hanno la stessa vocazione, creare ricchezze in questo territorio, ha detto il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, in riferimento alla trasversalità di soci che sostengono Primo Miglio 1609. La fondazione infatti conta tra i suoi soci fondatori originari Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Banca Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio del Veneto, Unicredit, Veneto Banca e Studio Adacta e, come soci partecipanti e sostenitori, CGL, Cisle e Will Vicenza. In una veste diversa è invece intervenuto il comune di Vicenza che ha messo a disposizione i locali, da poco rinnovati, di Contraburci, sede dell'incubatore. Dopo i saluti è stata quindi la volta della tavola rotonda ed infine sono state presentate le tre start-up di Primo Miglio alla platea di imprenditori e finanziatori presenti a Palazzo Bolin Longare. Team Kais, l'obiettivo del progetto è la costruzione e la commercializzazione di stampanti 3D low cost, destinate ad una fascia di mercato che comprenda bambini, ragazzi, giovani, adulti e insegnanti, ma anche piccole aziende che ricerchiano una prototipazione rapida ed economica. Suola per calzature, che ha prevetato una suola per calzature che consente lo scambio termico tra piedi in appoggio alla suola e ambiente esterno, per aumentare il comfort del piede e ottimizzare la prestazione sportiva e non. Wind City, progetto di impresa che si basa sulla valorizzazione della proprietà intellettuale veicolata con il brevetto di Morbiato per un nuovo concetto di conversione eolica. Si tratta di una turbina ad asse verticale che possiede alcune fondamentali caratteristiche di novità nella propria geometria variabile.